Ciao ragazzi, benvenuti sulla guida agli eroi di For Honor e siamo qui oggi con la pacificatrice, yes, attacco a zona. Allora, la pacificatrice, chi è? La peacekeeper, al tempo famigerata peacekeeper, pk puttana, è un eroe assassino e di fatti ha la reflex guard, cioè ha la guardia che scade, come potete vedere, non è la più rapida a scadere, le più rapide sono quelle del gladiatore e dello shinobi, per cui dovete tenere a mente questo fattore quando giocate questo eroe. Quindi, beh 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 beh, andiamo subito, le combo della pacificatrice sono di un leggero leggero pesante, quindi abbiamo leggero, leggero, pesante, leggero e pesante, pam pam, e poi un classico pesante e pesante, le combo sono abbastanza facili. Ricordatevi una cosa, dopo che un pesante va a segno con la pacificatrice, voi avete di follow up, quindi se premetto subito un leggero, del danno da sanguinamento, che conta come un attacco leggero, quindi per esempio, pesante, bleed, lo premo appena, il pesante va a segno, questo non funziona chiaramente se l'avversario blocca il vostro attacco o se gli fa perri chiaramente, vedete, pam pam, stessa cosa per gli attacchi inschivati, infatti con la pacificatrice gli attacchi inschivati sono laterali e frontali, inschivati in avanti, si eseguono con la pressione dell'attacco pesante, quindi pesante, con l'acirazione e sanguinamento di follow up, quindi appena vedete che il vostro pesante va a segno, premete il tasto leggero, e ora ve lo faccio sentire magari avvicinando il controller al microfono, pam pam, avete sentito? Eccolo qua, spero si sia sentito, in ogni caso è abbastanza semplice, basta che facciate qualche tentativo, a volte può sfuggirvi se non capite molto bene il tempismo, comunque se ci prendete un attimo la mano lo capite. Per quanto riguarda il gioco quando non siete loccati al vostro avversario, non in modalità guardia, voi avete semplicemente con lo scatto un guard break, che la mia amica ha appena lasciato, quindi potete fare questo, fate così, pam, state molto attenti, ricordatevi che ha parecchio range, e quindi anche se passate non troppo distanti, ma neanche troppo vicini, comunque prenderete il vostro avversario. Quello che voi potete fare appena fate un guard break, la maggior parte dei casi è guard break, leggero, 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 allenatevi un attimo per capire il tempismo dei leggeri, comunque è così. Credo si sia sentito. A volte può capitare che sbagliate il tempismo, allora non prendete tutto il danno, è un danno davvero esagerato per un guard break, comunque è molto buono per questo personaggio, dato che ora è stato depotenziato. E su cosa gioca la Pacifica Trish? Principalmente gioca sulle Soft Feint, che non sono le Hard Feint, che sono quelle che si eseguono premendo proprio il tasto di cancellazione B, quindi questo non è questo, ma è quello che voi fate nel momento in cui fate un attacco pesante e lo cancellate però utilizzando un altro comando che non è il tasto di cancellazione, ma facendo l'attacco che voi volete che il vostro personaggio faccia. Quindi se noi con la Pacifica Trish abbiamo la possibilità di inserire all'interno degli attacchi pesanti una Soft Feint di leggero che esce sempre dall'alto, quindi pesante. Eccolo qua. Vedete? In ogni caso se io sono in alto, in questo caso non ha molto senso, avrà molto più senso se lo fate lateralmente, a meno che il vostro restare non provi a fare perri, ma se è una persona sveglia contro una Pacificatrice, quando fa pesanti, non farà perri, perché è molto facile prendersi del danno da lacerazione, da seguinamento, quello che è senza motivo. Quindi, per esempio, papà, non è vero, questo non è vero, pam pam pam, eccolo qua. Questa cosa è eseguibile anche con la mossa migliore che avete, è anche, diciamo, tra le mosse più safe che avete, che è l'attacco a zona. L'attacco a zona si può eseguire in tre modi, la maggior parte delle volte farete semplicemente attacco a zona, quindi cancellandolo a metà, l'attacco a zona completo è così. La seconda parte non si lascia quasi mai andare, lo potete cancellare a metà in questo modo qui. Oppure potete fare una Soft Feint alta anche nell'attacco a zona, funziona allo stesso modo dei pesanti, quindi come fate questo sul pesante, lo fate anche per il secondo colpo. Colpisce il primo e appena il primo colpito premette l'attacco leggero e questo esce sempre, 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 sempre dall'alto. Allora, vi ho detto, la punizione al guard break sono quei tre leggeri che fanno sanguinamento, lacerazione. Se siete vicino a un muro siete abbastanza fortunati, se il mio amico si avvicina e che non apprezza, in questo momento è un po' diffidente. Potete fare leggero, leggero, buttate a muro ed eccolo qua. Quindi quello che io ho fatto è stato prenderlo in guard break, fargli due leggeri e piuttosto che fare il terzo, che concluderebbe la combo, noi possiamo buttare il nostro avversario a muro e poi fargli un attacco pesante in dash in avanti e se il nostro colpo pesante andrà a segno, e questo dipende dall'estrenza dal muro e dall'animazione e quindi dipende dal tempo che noi abbiamo per attaccare mentre l'avversario è stordito al muro, abbiamo il pesante e il leggero. Un altro paio di cose che la pacificatrice può fare e saranno molto utili all'interno delle vostre combo sono sempre all'interno di attacchi pesanti la pacificatrice può schivare, quindi pesante e schivata, pesante e schivata. Io premo direttamente la schivata, quindi è sempre una soft feint e una hard feint, non premo la B e poi schivo. Io premo questo, vedete che è più veloce? È come quella che può fare il berserker. E sempre come soft feint, quindi non premendo il tasto della cancellazione classica, possiamo anche fare il guard break all'interno dell'attacco pesante, quindi guard break. Vedete? Per esempio leggero, leggero, guard break. Quindi leggero, leggero, pesante, guard break. Vedete? Leggero, eh. Vedete? Leggero, pesante, ma guard break. Oppure possiamo fare leggero, invece che il pesante, andiamo a fare il sanguinamento. Capito? Oppure così e schiviamo. Se la gioco molto in questo modo, la pacificatrice è un personaggio abbastanza interessante, è stato reso più divertente da giocare. I risultati sono un po' quello che sono, però va bene così dai. Ci accontentiamo della nostra Titch Girl, diciamo. L'ultima cosa che la pacificatrice ha nel suo roster di attacchi è il Deflect. Il Deflect è abbastanza utile. In realtà non è decisamente dei più utili nel gioco, assolutamente. Non è minimamente efficace come quello di una sciamana. Ecco qua. Vedete? Abbiamo un leggero con il sanguinamento. È abbastanza semplice la faccenda. Lo stile di gioco a grandi linee della pacificatrice è abbastanza semplice. Bisogna giocare solo nelle combo, con i vostri attacchi leggeri, che sono abbastanza veloci, concluderli con i pesanti, che possiamo sia lasciare andare, sia fare le soft feint che vi ho spiegato in sanguinamento, quindi premendo leggero, piuttosto che nel garberic, piuttosto che nella cancellata e poi pesante laterale. Anche se quello è un po' rischioso, perché se il vostro avversario non prova a fare perry, vi fa sicuramente il perry al pesante laterale. Intendo questo qua, per esempio, leggero, leggero, questa cosa qua intendo. L'ultimo attacco probabilmente verrà perryato al 90% delle volte. In realtà lo stampo di gioco della pacificatrice non è così aggressivo. Dovete mixare l'aggressività e la difensiva allo stesso tempo. State molto attenti, chiaramente, alla guardia che scade, perché adesso parliamo degli assassini, e quindi ci hanno la guardia che scade. E so che è brutto da dire, comunque abusate del vostro attacco a zona, che è molto veloce. E quando è uscito il rework della pacificatrice, fare l'attacco a zona con il bleed finale era buono. Adesso è un po' telecraftato, quindi non so se vi conviene. Io lo cancellerei a metà e basta. Potete anche fare così, è cancellato, poi un leggero magari. Oppure così, e poi un guard break. Ecco, per la dovete giocare un po' questo modo qua. I vostri attacchi pesanti laterali sono molto utili, perché non tanto per il danno, ma più perché poi potete seguire con la lacerazione. In domino chiaramente la pacificatrice è buona se affiancata a personaggi come la sciamana, che possono approfittare del bleed con il loro morso. Anche se come personaggio la pacificatrice in sé dà il suo meglio sicuramente in duello o in mischia, perché nel momento in cui si trova addosso a tre o quattro persone fa davvero molta fatica. Una pacificatrice in vendetta è molto molto poco efficace, a prescindere dalla build che ci potete creare sopra. Grazie. 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 Grazie.